Cesare Cremonini è figlio di Carla, professoressa di lettere, e Giovanni Cremonini, medico dietologo 1924-2019 ed è due anni più giovane del fratello Vittorio. Fin da piccolo inizia a studiare pianoforte e a sei anni prende la sua prima lezione. All'età di undici anni riceve in regalo il primo disco dei Queen, un gruppo che diventa il suo grande amore e lo spinge allontanarsi progressivamente dalla musica classica per dedicarsi al pop rock. La sua inclinazione per la scrittura emerge intorno ai 14 anni, quando inizia a notare brevi racconti, poesie e canzoni su un quaderno. Studiavo Chopin e Beethoven, poi per Natale mio padre mi regalò un disco dei Queen. Notai che molte delle loro canzoni contenevano riferimenti alla musica classica e chiesi alla mia professoressa di farmi studiare Bohemian Rhapsody. Tre anni dopo, mentre ero in vacanza con i miei genitori, scrissi Vorrei, la mia prima canzone. Avevo 15 anni. Nel 1996, insieme ad alcuni amici e compagni di classe del liceo scientifico Sabine, forma un gruppo chiamato Senza Filtro. Con questa band si esibisce in feste locali del circuito bolognese, presentando un repertorio originale, sebbene non manchino alcune cover di Beatles, Oasis, Radiohead e Queen, come testimoniato dal suo vistoso tatuaggio sull'avambraccio sinistro. Alla fine del 1996 incontra Walter Mameli, che diventa il suo produttore artistico e manager. Il 27 maggio 1999, il gruppo debutta in radio con il singolo 50 Special, che ottiene subito un grande successo, vendendo oltre 100.000 copie e ottenendo il disco di platino in soli tre mesi. Cesare Cremonini rivela di aver scritto questa canzone poco prima dell'esame di maturità. Ispirato dal libro Jack Frusciante, è uscito dal gruppo di Enrico Brizzi. Il 27 novembre 1999, a tre mesi dalla pubblicazione dell'album, esce il secondo singolo, Un giorno migliore, che raggiunge il primo posto tra i brani più trasmessi il 22 dicembre 1999, mantenendosi in cima fino a marzo 2000. Il singolo, pubblicato a gennaio, ottiene il disco d'oro per le oltre 50.000 copie vendute. Il 30 novembre 1999 esce l'album Squarez, l'unico del gruppo, registrato tra agosto e settembre 1999 nel Tam Tam Studio di Cesena. L'album raccoglie le canzoni scritte da Cremonini tra i 15 e i 18 anni, ad eccezione di Se ci sarai, scritta da Alessandro De Simone e Resta con me, composta da Cremonini e De Simone. Nell'aprile 2000 viene pubblicato il terzo singolo, Qualcosa di grande, con cui il gruppo vince il Festival Bar di quell'anno. I successivi singoli, Se ci sarai e Resta con me, contribuiscono al successo dell'album, che vende oltre un milione e mezzo di copie in Italia nei successivi anni. Approfittando del successo della band, durante l'estate Cremonini diventa, insieme a Vanessa Incontrada, testimonial degli spot televisivi della team, accompagnati dalla canzone Vorrei, anch'essa inclusa nell'album Squarez. Nonostante il successo, il progetto del gruppo si scontra con pressioni e interessi esterni, che portano a una spaccatura all'interno della band, con Cremonini e il bassista Nicola Ballo Balestri, contrapposti agli altri membri. L'ultima apparizione pubblica dei Luna Pop avviene il 18 settembre 2001 all'Arena di Verona, durante la serata finale del Festival Bar 2001. La band si scioglie e i membri seguono percorsi diversi, ad eccezione di Ballo, che accompagna Cremonini nella sua carriera da solista. Nel frattempo, Cremonini si dedica anche alla recitazione, avendo già partecipato a due episodi della sitcom Via Zanardi, 33. Recita poi da protagonista nel film Un amore perfetto, al fianco di Martina Stella. Il 15 novembre 2002, Cesare Cremonini pubblica il suo primo album da solista, Bagus, un termine indonesiano che significa tutto ciò che è positivo, gradevole, piacevole e bello. Dall'album vengono estratti i singoli Gli uomini e le donne sono uguali. Vieni a vedere perché, padre madre e Latin lover. Registrato ancora presso i Tam Tam Studio di Cesena, Bagus rappresenta un passo importante nella crescita artistica di Cremonini, dimostrando la sua intenzione di non restare ancorato ai successi precedenti e di esplorare nuove direzioni. Il pubblico accoglie favorevolmente il lavoro. L'album rimane per 15 settimane nella top 50 dei dischi più venduti in Italia, ottiene quattro dischi d'oro e vende oltre 250.000 copie. Nel 2003 viene pubblicata un'edizione speciale limitata di Bagus, che include l'inedito Gonji Boy, un DVD con alcuni video musicali e il Bagus Tour Documentary. Il 10 giugno 2005, Cesare Cremonini pubblica il suo secondo album da solista, Maggese, il cui titolo si riferisce a un campo lasciato in riposo, per poi essere fertilizzato. Le registrazioni dell'album avvengono negli illustri studi Abbey Road di Londra. I singoli estratti dall'album sono Marmellata Mequa 25, Maggese, Le tue parole fanno male e Ancora un po'. Nell'ottobre 2005, Cremonini inizia il Maggese Theatre Tour, un tour teatrale di nove date con la London Telefilmonic Orchestra, composta da 30 elementi e 9 musicisti, gli stessi che hanno partecipato alle registrazioni dell'album. Durante lo spettacolo, Cremonini interpreta l'orgia di Giorgio Gaber e scrive gli arrangiamenti delle canzoni con l'assistenza di Giovanni Guerretti e Alessandro Magnanini, piano e chitarra della sua band. Il tour include anche momenti di prosa e l'uso di strumenti particolari come il Santour, di origine indiana, con Cremonini che suona anche il pianoforte e la chitarra acustica. Al termine del tour, Cremonini commenta «Gli applausi in un teatro hanno un suono particolare, ti piovono addosso come un temporale improvviso». Ma la cosa più emozionante è stata riuscire a far scoppiare a ridere il pubblico con una battuta. È un sogno che mi portavo dietro fin da bambino, quando all'asilo mettevo tutti i miei compagni di giochi sulle scale e cercavo di farli ridere rendendomi ridicolo. Durante l'estate del 2006, Cremonini organizza il Maggese Summer Tour, un tour di 30 date in tutta Italia, con uno stile decisamente più elettrico rispetto all'esperienza teatrale. Più di centomila persone assistono ai concerti. Nel giugno 2006, Cremonini riarrangia e reinterpreta il brano «Innocenti evasioni» per il disco «Innocenti evasioni 2006», un tributo a Lucio Battisti con canzoni interpretate da alcuni dei maggiori cantanti italiani, tra cui Ligabue, Max Pezzali, Samuele Bersani, Neck, Raff e Giorgia. Il 24 novembre 2006, in occasione dell'anniversario della morte di Freddie Mercury, Cesare Cremonini pubblica il suo primo album dal vivo, Uno Plalo Sotto la 24. Il titolo rappresenta Cremonini, uno, i membri della band, otto, e la London Telefilmonic Orchestra, ventiquattro, e include brani tratti dal Maggese Theatre Tour. Il CD è accompagnato da un DVD, che presenta il film documentario Uno Plus Otto Pibu 24, contenente parti del concerto, riprese della lavorazione dell'album Maggese, agli studi Abbey Road di Londra e backstage del tour. L'album include anche l'inedito «Dev'essere così», che entra nella top ten dei brani più trasmessi in radio. Nel 2007, Cremonini pubblica articoli sui quotidiani «Corriere della Sera», «La Repubblica» e «Il resto del Carlino». La Fazzi Editore pubblica il libro «I nostri ponti hanno un'anima, voi no», «Lettere ai politici», che include una pesante requisitoria di Cremonini sui politici contemporanei, accompagnata da interventi di vari intellettuali. Sempre nel 2007 esce il libro «Storytellers», curato da Paola Maugeri e Luca De Gennaro, che include un'intervista a Cremonini realizzata l'8 novembre 2005 durante una serata musicale all'Aula Magna Santa Lucia dell'Università di Bologna, trasmessa su MTV. Nello stesso anno, a Bologna viene realizzato il «Mille Galassie Studio», una struttura artistico-musicale dotata di uno studio di registrazione e una sala prove. Inoltre, Cremonini compone le musiche per «I giorni dell'odio», un docufilm di Canale 5, scritto e diretto da Giorgio John Squarcia con la collaborazione di Francesca Fogar. Il 30 maggio 2008, Cesare Cremonini pubblica il singolo «Dicono di me», che anticipa l'uscita del suo quarto album. L'album, registrato a Bologna negli studi «Mille Galassie» e mixato a Londra presso gli Air Studios di George Martin, è intitolato «Il primo bacio sulla Luna». Il brano rimane nella top ten dei più trasmessi in radio durante tutta l'estate 2008. Il 26 settembre 2008 esce il quarto album di Cremonini, «Il primo bacio sulla Luna», composto da 12 tracce scritte e arrangiate interamente da Cremonini, con il supporto di ballo, del produttore Walter Mameli e dell'ingegnere del suono Steve Orchard, noto per le sue collaborazioni con artisti come You2, Travis, Oasis e Paul McCartney. L'album debutta nella top ten dei dischi più venduti, entrando direttamente al numero 6. Contestualmente viene pubblicato il secondo singolo estratto, le 6 e 26. In autunno parte il «Il primo tour sulla Luna» che porta Cremonini a esibirsi nei grandi club e palasport. Il 19 gennaio 2009 Cremonini presenta in anteprima il terzo singolo «Figlio di un re», che raggiunge la top 5 dei brani più trasmessi in radio in Italia. A maggio 2009, in occasione del decimo anniversario di «50 special», esce il primo libro di Cremonini, «Le ali sotto ai piedi», un'autobiografia pubblicata da Rizzoli. Il 21 aprile 2009 partecipa alla registrazione del singolo «Domani 2104 mi 2009» presso le officine meccaniche di Milano. La canzone, scritta e prodotta da Mauro Pagani, riunisce 56 artisti della musica italiana e il ricavato è destinato alla ricostruzione del conservatorio Alfredo Casella e della sede del teatro stabile d'Abruzzo dell'Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009. Il 15 maggio 2009 esce il quarto singolo dall'album «Il pagliaccio» e nello stesso mese Cremonini viene nominato per la seconda edizione del premio Mogol per il miglior testo dell'anno, ottenendo due nomination per «Figlio di un re» e le 6 e 26. Il 16 maggio 2009 Cremonini riceve il premio «History» alla carriera ai TRL Awards. Il 26 settembre 2009 l'album «Il primo bacio sulla luna» festeggia un anno di presenza nella classifica dei dischi più venduti in Italia. Dal 2 ottobre 2009 inizia la rotazione radiofonica del quinto singolo «L'altra metà». Il 25 maggio 2010 Cesare Cremonini pubblica la sua prima raccolta di successi «1999-2010» «The Greatest Hits». L'album, che include più di 20 canzoni dei 10 anni di carriera dell'artista, è composto da un doppio CD e presenta brani come «Hello» in duetto con Malika Iane, all'epoca sua compagna. L'album resta per 15 settimane tra le prime 10 posizioni dei dischi più venduti e conquista il disco di Platino. Anticipato dal singolo «Mondo», che vede la partecipazione di Giovanotti, l'album segna anche la conclusione del contratto di Cremonini con la Warner Music Group. Il 21 dicembre 2010 Mondo viene eletta «Miglior canzone dell'anno» da iTunes e risulta la canzone più trasmessa dalle radio italiane nel 2010. «Hello» figura anche nella classifica, alla posizione 66. Nel gennaio 2011 Cremonini collabora nuovamente con Giovanotti, partecipando al brano «I pesci grossi» dal disco Ora. La canzone include riferimenti alla strofa di Mondo. Inoltre Cremonini scrive, con Alessandro Magnanini, la sigla del programma radiofonico 105 a Luna, condotto da Alessandro Cattelan su Radio 105. Alla fine del 2011, Cesare Cremonini annuncia sul suo sito ufficiale di essere al lavoro su un nuovo disco di inediti. Il 16 aprile 2012 viene svelato il titolo del primo singolo, Il comico, sai che risate, che anticipa l'uscita del nuovo album, La teoria dei colori, prevista per il 22 maggio. Il singolo ottiene un successo straordinario, rimanendo per oltre 10 settimane in vetta alla classifica dei brani più suonati dalle radio italiane. L'album fa il suo ingresso direttamente al numero 2 della classifica dei dischi più venduti e rimane nella top 10 per oltre due mesi. La teoria dei colori presenta 11 tracce che spaziano tra canzoni pop dal carattere britannico. Il comico, sai che risate, una come te, ecco l'amore che cos'è. Ballate intime ispirate alla musica italiana degli anni 60 e 70. Amor mio, I love you, tante belle cose, il sole e tracce pop rock dal testo sognante, la nuova stella di Broadway, l'uomo che viaggia fra le stelle, stupido a chi. Amor mio fa parte della colonna sonora del film Padroni di casa, diretto da Edoardo Gabriellini e viene interpretata da Gianni Morandi, protagonista della pellicola. Tante belle cose, viene utilizzata come colonna sonora nella commedia teatrale di Alessandro Dalatri, con testi di Edoardo Erba e Maria Amelia Monti. Tra ottobre e novembre 2012, Cremonini intraprende il Cesare Cremonini Live 2012, un tour che comprende 14 concerti nei principali palasport d'Italia, ottenendo un grande successo e il tutto esaurito ovunque, con una data triplicata a Bologna. L'album La teoria dei colori ottiene il disco di Platino, così come il singolo La nuova stella di Broadway. Nel giugno 2013 viene pubblicato I love you come quarto singolo estratto dal disco. Nel 2013, Cremonini collabora anche con Max Pezzali e Luca Carboni, cantando rispettivamente in duetto con Pezzali nella canzone Gli anni e con Carboni in Mare Mare. Nel giugno 2013, amor mio, il brano di Cesare Cremonini, cantato da Gianni Morandi per il film Padroni di casa, vince il nastro d'argento come miglior canzone originale. Cremonini ritira il premio il 6 luglio al Teatro Antico di Taormina, insieme a Morandi. Il tour estivo di Cremonini si arricchisce con una data speciale il 29 luglio, quando si esibisce al Teatro Antico di Taormina, accompagnato solo dal pianoforte, mentre l'ultimo segmento del tour parte il 18 luglio dal Foro Italico di Roma, con tutte le date registrando il tutto esaurito. Terminato il tour, Cremonini viene scelto come giurato per il premio alle colonne sonore Soundtrack Stars, alla 70 la mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, insieme a Giuliano Montaldo, Gino Castaldo, Laura Delli Colli e Cristiana Paternò. A dicembre, la nuova stella di Broadway viene premiata nella categoria Miglior Videoclip dall'Academy del Medimax e a gennaio 2014 Cremonini riceve l'On Stage Award per il Miglior Concerto Outdoor, per il concerto del 22 luglio all'Arena di Verona. Nel 2013 Cesare Cremonini annuncia la lavorazione del suo quinto album di inediti, previsto per la primavera del 2014. Il 27 marzo 2014, giorno del suo trennata da quarto compleanno, esce il singolo Logico Umbra 1, utilizzato anche come colonna sonora per uno spot del Cornetto Algida. Il 6 maggio 2014 Cremonini pubblica Logico, che debutta al primo posto della classifica ufficiale Fimi e viene candidato al premio Tenco come Miglior Album. Il Logico Tour segue l'uscita dell'album e vede Cremonini esibirsi nei più grandi palasport italiani tra ottobre e novembre 2014. La tappa d'esordio al Mediolanum Forum di Milano va sold out, portando a una seconda data per la grande richiesta. Il tour riscontra un enorme successo, con molte altre date che registrano il tutto esaurito. Il singolo Logico Umbra 1 rimane in cima alla classifica delle radio italiane per oltre 12 settimane. Nel corso del 2014 e del 2015 Cremonini pubblica altri singoli dall'album Logico, tra cui Grey Goose e io e Anna, il sequel della canzone Anna e Marco di Lucio Dalla. Inoltre scrive l'inno per la scuderia Sky Racing Team .r46 di Moto3, intitolato 46, e il 27 marzo 2015, giorno del suo 35to compleanno, pubblica il singolo Buon Viaggio, Share the Love, che fa parte del triplo CD più che logico, Live. Il brano è utilizzato come spot dell'estate 2015 del cornetto. Nel novembre 2015 i due album del Logico Project vengono raccolti in un cofanetto di quattro CD, intitolato Logico Project Limited Edition. Il 2015 si conclude con la pubblicazione per radio DJ del singolo natalizio Eccolo qua il Natale, una notte trattante. Nel 2016 Cremonini vince la prima edizione di Top Gear Italia. Nel 2017 Cesare Cremonini inizia a lavorare al suo nuovo album di inediti, previsto inizialmente per il 24 novembre 2017. Il 26 ottobre dello stesso anno viene annunciato il titolo dell'album Possibili scenari e il primo singolo, Poetica, uscito il 3 novembre. Segue il secondo singolo Nessuno vuole essere Robin, pubblicato il 23 febbraio 2018 e il terzo singolo Kashmir Kashmir, rilasciato il 18 maggio 2018, che ottiene un grande successo e rimane in alta rotazione radiofonica per tutta l'estate. Durante l'estate del 2018 Cremonini si esibisce per la prima volta in quattro date negli stadi italiani, con sold out a Bologna e Milano. Una registrazione del concerto di San Siro viene trasmessa il 17 luglio 2018 da Rai 2 e Rai Radio 2. Per l'autunno vengono annunciate 16 nuove date nei Palasport per novembre e dicembre 2018. Il 12 ottobre 2018 esce il quarto singolo, Possibili scenari, title track dell'album. Il 23 novembre 2018 Cremonini annuncia l'uscita di Possibili scenari per Piano e Voce, una versione per pianoforte e voce del suo ultimo album. Nel maggio 2019 Cremonini annuncia il suo secondo tour negli stadi italiani per l'estate del 2020, che prevede sette date, tra cui Lignano-Sabbiadoro, Milano, Padova, Torino, Firenze, Roma e Bari, con una data finale all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il 29 novembre 2019, per celebrare i suoi vent'anni di carriera, viene pubblicato Cremonini due... due scid best of, una raccolta dei suoi maggiori successi insieme a sei brani inediti. Il primo singolo della raccolta è Al telefono, seguito il 28 febbraio 2020, dal secondo singolo Giovane Stupida e Infine Ciao, pubblicato il 18 settembre 2020. Nel giugno 2020, Cesare Cremonini annuncia le nuove date per il tour negli stadi, rinviato dal 2020 al 2021, a causa della pandemia di Covid-19. Il primo dicembre 2020, Cremonini pubblica il suo secondo libro, Let Them Talk. Ogni canzone è una storia, in cui esplora la genesi di alcuni dei suoi brani più celebri, brani... Nel settembre 2021, Cremonini rivela che i primi mix del suo settimo album sono in fase di completamento. Annuncia anche il primo dicembre 2021 l'uscita del singolo Colibri e il titolo dell'album La Ragazza del Futuro. Il 11 gennaio 2022 viene confermata la sua partecipazione al 70 Kendo Festival di Sanremo, dove debutta sul palco dell'Ariston. Durante la terza serata della Kermes, presenta il singolo La Ragazza del Futuro e un medley dei suoi brani più famosi, tra cui Poetica e 50 Special. Tra giugno e luglio 2022, Cremonini recupera il tour previsto per l'estate 2020, con una performance a Imola che accoglie 70.000 spettatori. In estate vince il premio del Festival Marateale, che dedica al padre recentemente scomparso. Il 30 settembre 2022 viene pubblicata una nuova versione del celebre brano di Lucio dalla stella di mare, in duetto con Cremonini. Grazie a tutti. Grazie.